Si sono tenute presso la Galleria Eribertoia Pordenone le premiazioni del concorso fotografico Pordenone Sorprendimi, che ha coinvolto i giovani dai 15 ai 30 anni residenti in città e in provincia. Il tema, la città di Pordenone, ha saputo attirare l'attenzione di tanti ragazzi che nei mesi scorsi si sono impegnati per cercare scorci, inquadrature, prospettive da immortalare, facendo emergere con personalità e originalità il modo in cui loro stessi percepiscono la città. Dobbiamo dare qualche numero per dare la misura del successo di questa iniziativa. Ci sono arrivate oltre 400 foto, di cui circa 230 sono state esposte. Quindi la risposta dei giovani di Pordenone è stata di poco eccezionale. Peraltro le visite a questa mostra sono state 4.000, quella sotto qui del grande fotografo Erwitt 7.000, per un totale di 11.000. Oggi premiamo questi giovani, questi giovani che hanno risposto al nostro appello e io credo che oltre a parlare di loro solo quando si rendono protagonisti di atti di bullismo, violenza, baby gang, si debba anche dare loro spazio nelle televisioni, nei giornali, anche per esprimere le loro energie positive, che questa iniziativa lo dimostra, sono veramente tante. Quello che dobbiamo fare è dare loro l'occasione di potersi esprimere. Noi cerchiamo di farlo con queste iniziative concrete. Il primo posto scelto dalla giuria tecnica è andato a Demma Salerni con la foto La Danza della Città, per l'originalità del suo scatto e l'impatto emotivo che l'opera suscita. La giuria popolare ha invece premiato come migliore la foto di Giulia Rossetto, che immortala la passeggiata verso la Santissima in un'atmosfera onirica e surreale. Sono molto contenta, ringrazio la mia migliore amica Elena che ha posato per la foto, fa la ballerina, molto spesso facciamo foto insieme in cui lei balla io scatto e sono contenta che sia stata premiata questa nostra idea. Sono molto emozionata e ringrazio tutte le persone che sono venute a visitare la mostra e hanno votato per la mia foto. Il Comune ringrazia l'Associazione Panorama per la preziosa collaborazione nel realizzare questo evento e la SME di Pordenone per aver messo generosamente a disposizione i premi in buon acquisto per i vincitori.